Lo scontro tra generazioni in un tuffo nel passato che esalta i modi di vivere e di fare d'un tempo. Sono gli elementi che sorreggono la trama della commedia dialettale Navotan Ballaturro, che la compagnia teatrale Tortorese propone nell'ambito del cartellone Palacona dei Venti a Praia Mare, venerdì 11 gennaio 2013. La commedia è opera di Domenico Cirimele e Biagio Moliterni, e tra ispirazione dal libro Memorie storiche di Tortola, scritto da Medio Fulco, a cui l'opera è dedicata in onore al centenario della sua nascita. Sul palco un gruppo di 16 tortoresi amanti del teatro e del dialetto originario del borgo medievale. La commedia riporta gli spettatori indietro nel tempo, in un'era neanche troppo distante cronologicamente da quella attuale. Allo spettatore vengono mostrati valori e tradizioni, usi e costumi propri della gente comune di quel tempo ed oggi forse irrimediabilmente tramontati. L'opera narra le vicende ambientate nella bottega di Mastu Micuzzo, barbiere, calzolaio e molto altro ancora, attorno alla cui figura ruotano gli altri personaggi, come la moglie Trisina e il fedele Garzone Cicuzzo, e poi i compaesani, tutti afflitti da qualche problema, e il protagonista per tutti trova la cosiddetta pezza a culuri, ovvero un rimedio dettato dall'esperienza e dalla saggezza. La commedia è stata proposta per la prima volta al pubblico nello scorso ottobre, in occasione del Zafarana Fest nel centro storico di Tortora, e in quella piazza Dante Alighieri dai Tortoresi, denominata Mballaturro, che dà il nome al titolo. Mballaturro, ovvero, spiega lo storico tortorese e coautore della commedia Biagio Moliterni, secondo Amedeo Fulco, Mbedi Laturri, letteralmente ai piedi della torre. In definitiva è un po' come dire quel che succedeva una volta in piazza. Per sapere cosa, l'appuntamento è alle 21 di domani nella tenzostruttura di via San Paolo a Preammare.